Le 10 regole d'oro per la spillatura perfetta Ecco le 10 regole d'oro per gustare al meglio la birra perfetta. 1. Conoscere le birre è fondamentale per valorizzare il prodotto. 2. Ogni birra ha la sua schiuma e il suo bicchiere. 3. La schiuma è un elemento funzionale alla birra e non semplice decoro. 4. Il bicchiere deve essere ben sgrassato e pulito. 5. Impugnare sempre il bicchiere dal basso per non scaldare la birra. 6. La birra va spillata alla sua corretta temperatura di servizio per esaltarne al massimo le proprietà organolettiche. 7. Tanti tipi di birra, di schiuma e diversi metodi di spillatura. In ogni caso, la schiuma deve presentarsi compatta. 8. Per le birre e lager, la giusta quantità di schiuma sono le classiche due dita. 9. Parole chiave. Corretta spillatura, più giusta quantità di schiuma, più corretta temperatura del prodotto, più bicchiere adeguato. 10. Il servizio corretto è la base di partenza per bere bene, in modo responsabile e consapevole, a casa e fuori casa. Grazie a tutti